Buongiorno, nel senso che erate il 17 novembre 2006 dall'incontro di una famiglia imprenditoriale e la sottoscritta che da tempo, da 45 milioni di ombra, con un sistema di matrimonializzazione locale e praticamente da concentrista, con il suo appunto, con il mia testo di master e vendita, la prima volta che mi ricorda di questi comunitari, che è la docente della Fondazione Arnaz. È una fondazione mista, in parte di aggrazione, in parte di gestione, è una fondazione ONLUS, è scritta alla Nazionale delle Nazioni Giorgettiche dell'Ambrica di Tutti e dell'Ambrica di Lorenzo, è scritta, sì, dal 2010. È una fondazione mista, nel senso che, voglio dire che le nuove, quando ho la famiglia anche in soluzione, adesso guarda quando ci siamo. Ha un consiglio di amministrazione frontale, in parte, dalla famiglia intermeditoriale, che ha più volontà iniziale alla mia annata, della famiglia intermeditoriale, per la famiglia non necessariale, una bucola, che è un'azienda italiana, leader mondiale dell'accogliamento per bambine, target alto, e in parte da altri imprenditori della provincia di abrizzo, appartenenti alle categorie economiche e commercianti, e a una della parte più terza, come la parte più terza, tra presentativi, ovviamente, delle categorie economiche di questi compatti. ha un'azienda di potenza di 200.000 euro, ed è orientata la raccolta fondi, da prima, solo da prima. L'oggetto sociale della Fondazione Comunista è quello di promuovere, attraverso l'attuazione, il modello di comunità, in modo da soddisfare le soglie di un'attualità di cui vada a cedere, attraverso il coinvolgimento di tutti, si reagiremo di tutti gli attori della punta stessa. Quindi, cittadini, 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 associazioni, cooperazioni, organismi, e istruzioni pubbliche, in un grande gioco di squadra, e dove tutti servono, diciamo così, in un tavolo come questo, vale con una logica parvella, dallo singolo cittadino, al presidente dell'euro pubblico, che è un'attualità di cui vada a cedere. Come promuovere attraverso l'attuazione di cui vada a cedere, quindi non è che promuove problemi, fa cultura, no, ma da solo, la prima nata, in maniera concreta, per la vita, ha esegato questo intervento. Iniziamo a coinvolgere, coinvolgere i virus, molto diffusere attualmente, in cinque anni di azione, in una provincia di riso, e cercando di fare tutte le fasi, che possono, che portano a noi, anche essere del virus armati, rispondendo ai vari bisogni, individuati, ma che si è congiuntamente, da tutte queste attività, che vengono tramite, a tavola della norma nazionale. Questo vuol dire, che a Tarezzo, ovviamente, in progresso, all'inizio, non eravamo così tanti, nemmeno tanto così, consapevole di fare questo percorso, ma adesso siamo, veramente, e con soddisfazione, molto soggetti, e dove tanti parteciano a tutto il percorso, diciamo così, in maniera consapevole, e convinta, diciamo che tutto il percorso, che facciamo insieme, è quello che va, dall'immigrazione, quindi dall'intoraggio, che non sono solo sociali, socio-sanitari, ma siccome accenno, c'è la situazione, per essere della persona, sono anche culturali, educativi, ambientali, economici, produttivi, che è arrivare, a me, non vedo a tutte le risposte, perché riguardano, i detti sociali, più tradizionali, sono, di che, una volta, trovati questi risulti, della comunità, dove noi andiamo ad agire, e noi, non abbiamo, per essere una polizia, una polizia piccolina, non è che abbiamo preso, una provincia, un po', l'abbiamo, si utilizza, in piccole comunità, partendo dalle 5 zone, socio-sanitari, dove si stavano, usare da un po' di scato, e insomma, e anche quella, per noi, era, diciamo così, una polizia grande, quindi, sulla zona, retina, per esempio, andiamo a imprendere, sulle circoscrizioni, o meglio, sui quartieri, o meglio, sui li, pur essendo la propria città è una famiglia piccola e la città è una città piccola. Quindi l'inuitazione dei bisogni tutti insieme, quindi tutti insieme vuol dire il soggetto che è venuto a farlo, insieme agli imprenditori singoli o materiali economiche, insieme a soggetti del terzo settore, insieme ai cittadini anche essi singoli che possono sedersi a questo tavolo della Fondazione Mondalisa e riportare i propri bisogni. Una quantità riguarda questi bisogni che non sono solo sociali, del terzo. La Fondazione Mondalisa, se non sono, diciamo così, ma proprio pubblicamente, le prende in carico e individuati i soggetti che possono erogare quella risposta che risponde a quel bisogno, che possono essere sia i soldi che l'anno per questa Fondazione Mondalisa, ma anche anche i soggetti operanti del territorio dei derivari del Fondazione Sociale Sanitaria a retina. E in cui riguardo il servizio, la risposta, se esiste, a livello territoriale, la prende in carico e la propone alla comunità a retina, perché essa, la comunità a retina, quindi i singoli cittadini, la scegano e la sostengano con varie modalità. Questo vuol dire che la Fondazione Mondalisa non avanti, non farà, perché la scelta su quello che raccoglie la fa direttamente il terminatore finale, l'imprenditore prima solitamente cittadini ottimo. Quindi, la prende in carico, se ne prende in carico la Fondazione Mondalisa della risposta al bisogno e del soggetto che è il raccogliere del servizio, che risponde a questo consiglio, la promuove presso la comunità locale e sono i singoli cittadini che in una rosa di cause sociali, che vengono veramente aggiornati, implementati, sulla base delle istanze che hanno arrivato quotidianamente la Fondazione Mondalisa, scegliono l'uno o l'altro progetto che hanno ancora e che risponde a un bisogno che per loro merita di essere sostenuto e lo sostengono gli evitamenti. A questo punto, in questi evitamenti, siamo nella fase, diciamo così, della raccolta fondamentale. Però non è cronologicamente successivo questo percorso, perché magari all'inizio di noi che attività le facevamo molto meno cinque anni fa e quindi magari questo percorso era cronologicamente successivo. Quindi c'era poi una fase del monitoraggio, poi l'involuzione del parco delle facce sociali, poi l'operazione del rivolgimento della comunità dei cittadini, anche con il sostegno e la collaborazione degli enti pubblici, e poi la raccolta fondi, l'erogazione delle nazioni sulla base delle scelte del rivolgimento e la verifica, quindi chiaramente, di contribuzione a tutti coloro che erano partecipato di come erano stati gestiti e utilizzati questi progetti per questionare, questi problemi per rispondere ai bisogni dei cittadini. Adesso, siccome la nostra attività cresce in maniera sostanzialmente, vedete anche dal quadro solidarico che ho messo in cartellina, questa operazione è continuativa. e quindi magari mentre in alcune zone, in alcuni paesi partieri c'è la fase del monitoraggio, dell'involuzione del parco dei progetti, in alto c'è la fase della raccolta, in alto c'è la fase dell'involuzione del pubblico di raccordo, in alto c'è la fase dell'involuzione del servizio e anche, in tutte queste fasi, diciamo, sono l'unico esempio. Oggi ad Arezzo noi abbiamo quattro momenti dell'accordo da fondi ad Arezzo con una delle società, diciamo Arezzo e provincia, su parti di progetti diversi oggi, in questo momento. e mentre invece ci sono sempre, in questo momento, progetti che sono realizzati grazie a contributi da noi ammati sulla base dei progetti e delle relazioni di raccolta fondi ad Arezzo. Ad Arezzo, oggi ad Arezzo ci sono cinquanta persone alla cittadella della sicurezza stradale, ragazzi del terza in anima superiore di due scuole della provincia, che ci stanno facendo il corso della sicurezza stradale che hanno portato in questo momento. Mentre le località di Bastioni, c'è l'Italia di Arezzo, c'è l'operazione di raccolta fondi per le cinquantino famigliate di una onda, che dura tutta una settimana. A Terra Nuova, Bracciolini, che è un altro paese della zona Valdarno, c'è il nostro app solidario di raccolta dei fondi, il concetto Valdarno di Sicurezza e Salute, che all'oltre vogliamo visitare sempre dei fintatori per le scuole superiori del Valdarno durante i stagionali e formare a loro utilizzo, i ragazzi e i professori. E quindi, solamente oggi, c'è la formazione di raccolta da 118 VLS a 100 ragazzi delle quali sono stati realizzati. E così via le storie. Allora, Bracciolini, come noi coinvolgiamo nella fase di raccolta delle risorse necessarie non sono solo economiche, diciamo così, per realizzare progetti che rispondano risorse, come noi coinvolgiamo la comunità. Come noi coinvolgiamo, e dicevo prima, C'è il nostro modello di raccolta, che ci ha portato, nel 2011, che vedete... Ah, ci va a parlare, ecco, vedete anche qui. Nel 2011, anche in voi, c'è una nuova associazione di imprese sociali, se c'entro del 25% e del 25% for profit, 106 istituzioni, enti pubblici, economici e enti territoriali, 90.239 cittadini, di cui 32.434, 92%. Questo è la nostra attività per noi, per noi. Io sono una realtà piccola, rispetto a voi, siamo molto piccoli, ma molto piccoli, ma molto piccoli, e di forte crescita, perché noi siamo anticiclici, anzi, questa crisi del welfare pubblico fa sì che tantissimi, anche enti pubblici, vengano a usare la nostra porta per avere una nuova strada, con cui tenere il sistema dei servizi locali, sul sociale, sul socio-sanitario, sul assistenziale, del mandato. E tantissime realtà del cosiddetto terzo settore, vengono anche esse da noi, perché magari i tagli, fanno sì, i tagli da parte dell'elettro pubblico, fanno sì che molti dei loro servizi, cittadini, sono messi in una crisi, di fortissima crisi. E noi siamo la nuova strada, almeno in provincia di Arezzo, e lo siamo diventati in 5 anni, proprio per questa capacità di coinvolgere tutti i cittadini, in un grandissimo gioco di strada, dove tutti hanno un poco di quello che possono, e insieme si realizzano grandi progetti che servono a dire 70 miliardi, e dove ognuno è più protagonista perché ognuno si sceglie il progetto che gli faccia, e ognuno può arrivare alla porta della Fondazione Mondanese e dire, questo è un visore della comunità dove io riporto. Io sono la risposta, oppure la risposta non c'è, non c'è nessuno che fa questo servizio, che risposta a questo grossissimo bisogno che esista il tigno, Paesimo Super. Sestino, no? Mi danno una analizzata, e noi, stavolta che sia la storia, e diciamo, che quindi abbia un fondamento a questo visore, e diciamo, sì, noi ti prendiamo il gatto. Poi, insieme, vediamo come la comunità, poiché ha questo bisogno, come è nuovo, ci aiuta a realizzare il servizio che dà la risposta. Se le scelte su quel progetto sono zero, anche se noi vergogniamo, che comunque non incoglie l'interesse del cittadino, quindi, a realizzata, dalla persona, dall'utente finale, che è arrivata al cittadino, andiamoci, diciamo, sia esso un prefettore, 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 sia esso una persona, se queste persone, la comunità aretina, non gli interessa, non gli interessa quel tipo di progetto, ma un altro, magari esce dalla nostra operazione di promozione con zero euro, con zero scelte, con nessun imprenditore che decide di investire i dipendi, e nessun cittadino che decide di poter vivere l'intera. Ma se il progetto è sentito, quindi a reale, e coglie il cuore di tanti cittadini, magari in sette giorni, come abbiamo fatto per la prezzi di plastica di cordona, di coffe, cittadini, messi in presa, dettagli, completti, del mio, delle uniche, quelle sette cento famiglie, in sette giorni insieme a noi, hanno un accordo di 10-1300 euro, che sono servite a rinanziare con le tante, in due poffe, con sette giorni. D'altro numero, se lo vedo qui, si fa del confronto con quello che abbiamo l'accordo, sui 117 mila euro, con tutti i lavoratori, la donazione è molto maschera, è un milione della forza, è in tanti che vanno un po', e così la rinanzione è in vera, ormai la rinanzione è in vera, ormai la rinanzione è in vera, non è in grado dei compenditori, 670 e 620 compenditori, quasi tutti, quelli un po' grandi, e tanti piccoli, tanti piccoli che vogliono dire che il suo pericolo, il fruttimento, l'alimentare, medicola, la cartola internazionale, la cartola, la cucchiera, eccetera, eccetera, che danno su una piccola. Ok, quindi, diciamo che, una volta che praticamente abbiamo utilizzato per una comunità, diciamo di un talk, che so, abbiamo fatto per un paio di pensi una riconvenzione di tutti i risultati e di tutte le risposte servizi e dei soggetti che erano tutte le risposte dei servizi sul territorio, cioè tutte le persone, le associazioni che erano pubblici, i reti, di queste realtà che sono vendita dalla conferenza comunalisa, di un gruppo con le conferenze di sindaci, per capire quali sono i nostri territori, diciamo così, i bisogni più vitali. Cioè questa fase di monitoraggio è una fase di monitoraggio importante, dove delle certe sei istituzioni pubbliche fanno il numero, eh, però è uno che può andare anche a dire un altro cittadino, e questo è l'apporto della Fondazione Modalisa, e quindi, diciamo, mettiamo in punto e vedremo individuati il parco dei progetti che vogliamo sottoporre a quella comunità con un certo punto di te. Poi in cartellina avete questo. Questo ci dice. E' praticamente, diciamo, che i progetti che è nella comunità di Arezzo, Arezzo Città, ok? In più i 4, a novembre, diciamo sì, a novembre 2011, ok? E' presentato dalla Fondazione Modalisa per venderele duetasci. A fight for life per la scuola delle ragazze pisami, e al segno Questo quando Carlucci si chiama.. e al segno della Costituzione civile, alla sicurezza sanitaria personale da una pluralità di soggetti, esempio, qui c'è anche le impianti per il parco della scuola in materna china, proposto da alcuni indiretti, ma è vero che c'è in cessione tanto la realtà soggetta del privato sociale, oppure Arezzo Città della Musica, è praticamente tutto il progetto strategico del Comune di Arezzo per lo sviluppo di Arezzo come patria di Guido d'Arezzo, quindi c'è tutto un progetto di valorizzazione del territorio, sempre di Guido d'Arezzo e fondazione di Guido d'Arezzo eccetera eccetera. Quindi, questi sono, diciamo così, i partiti del progetto che fa un certo periodo presentare questo istante della Fondazione Organesa. La Fondazione Organesa, prima di ridurre questo, e questo è il volantino, è comunque un piccolo terzo del campo di comunicazione con il quale arriva il cittadino, per dire cosa stiamo facendo, viene e partecipa, ok? Prima di fare questo, o quel questo ambiente, cosa fa? Poi rivolge l'imprenditore, perché il suo modello è un raccoglio fondamentale, con il quale raccoglie il 617.000 euro, il 616 per raccoglio nel periodo 11, chi raccoglie così? Prima, poi rivolge l'imprenditore, dal più piccolo al più grande. Porta a porta. Porta a porta. Per tutta, ora questa è comune di Arezzo, indigita di Arezzo. Ma quando abbiamo il Vandallo, tutti i paesi devono andare. Ma quando abbiamo il Vattigermina, Sansepolcro, Agliari, Sestivo, Cagliate Tadda, Piere Santo Stefano, non lo so chi conosce un po' Arezzo, comunque da l'Italia, cioè anche è più un vero simile nel senso. Ovviamente questa Roma non farà il quartiere di Cugolino per farvi capire qual è il nostro lavoro. Quindi porta a porta, ovviamente facendosi a monte da dei rapporti plurientali a questo punto, camera del commercio, da dei voti economiche, tutte le varie associazioni di categoria, sindacali, ovviamente conoscono la nostra attività e patrocinano, il famoso testo, patrocinano quelli che stanno facendo. ma di contatto diretto con i creditori, con i creditori, con i creditori, con i 5 anni, è tutta una cosa qua, rimane. Ma i primi anni era un po' a porta, ma anche ora non c'è un po' a porta, perché abbiamo un rapporto diretto. Quindi porta a porta dall'imprenditore più grande, che è un'imprenditore più grande, a il fruttimento del pesimo superdito. E in questo porta a porta evitiamo, ovviamente se abbiamo un'impresa grande, facciamo un'imprenditura, 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 e un'imprenditura, 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 eccetera. Ormai sanno già che l'imprenditura analizza, ma se no. E cosa facciamo? Qual è il nostro modello? Prima richiediamo un aderimento, un modello, che è venuto da raccettare, perché se non credono che questa modalità è o che nemmeno partecipano. Poi abbiamo una scheda d'adesione, se decidono di aderire una scheda d'adesione, che ci sono i 18 oggetti per mezzo, fanno la scelta su qual è il progetto che mi piace e poi decidono che nemmeno partecipare. E come partecipare, per esempio, su questo che è la ordine solidale, permanente per un mezzo per interventarsi, ma così come la nostra natura di Sina, ma così come le nostre giornate dell'esca e della mattina, eccetera, loro possono decidere di partecipare in più buono. e solitamente possono decidere di partecipare in più buono. in più buono. In più, in più, in più, in più, in più, in più. in più, in più. Se mi hanno messo in un progetto, mi hanno messo un progetto in incasso. Ma sotto a tutto c'è chi decide di partecipare, oppure lo farei lui e l'altro, che decide di partecipare? Dandoci di perdere. Prima c'è la scelta. Quindi ognuno si sceglie il progetto che vi piace, l'imprenditore di qua. Quindi il frontiletto di visitato da noi decide di dare 10 email per il progetto Fit for Life. Decide di dare 5 euro per il progetto 1 euro. Quindi chi ne ha la scelta? Ovviamente visitati da voi, ovviamente i nostri sono i venditori che vanno incrociendo. E la cosa bella è che chi ha partecipato la prima volta partecipa sempre. E chi ha partecipato la prima volta con 10 kg di mene magari dà il 100% dell'incasso o 5 anni di una giornata. e magari fa da passaggio, cioè fa lui il marketing con la fondazione social. Dice all'edicolante accanto di partecipare, all'amico padronchiere di partecipare, dice ai suoi clienti di partecipare. Ok? Quindi ovviamente, e questa è una cosa interessante, in crescita per esempio quelli che hanno i primi sono gli imprenditori più grandi. Ma ad oggi la Fondazione Monalisa non è aezza piccola, gli imprenditori più grandi, più grandi, che possono sapere di DNA. Non ce ne sono tante che devano quelle, ce ne sono tantissime, però tutte sono sostituzioni della Fondazione Monalisa. e lo sono in maniera permanente. Fabiana è anche in pasta. Appena abbiamo finito la pasta, neanche l'ha telefonata. Quindi è anche in pasta. Avoga, Paola conoscele, avoga erne, prodotti di erbo di sterile, eccetera, eccetera, amicinato, ovviamente, molto bene, importante, eccetera. Allora, partecipa con noi. Sono buoni i prodotti. Facciamo la raccordazione di Conecola di Pasqua, il numero 200 più benvenuti, dicevo, c'è il nostro Conecola di Pasqua. Nico Fortiniano Raggiola, San Cento, quest'anno ha deciso di fare una donazione per presentire a tutti i ragazzi del Casentino, di frequentare cambiamenti, di consultazione e sicurezza stradale. Tutti i ragazzi dei primi genitori del Casentino. e i suoi vestiti sono sempre i nostri adulti. Andiamo un po' a prendere la Piazza di Pasqua. E così. Pagano Pieri che danno messa a Piazza di Piazza, e poi lo sa manco che in altri prosciutti del nostro periodo, se inizia all'interno della Piazza di Piazza di Piazza di Piazza di Piazza di Piazza di Piazza, e poi, ognuno fa il suo progetto. E i progetto sono per roma neri, perché non è che una volta ne prendiamo un cargo, le rassembliamo, e non è che poi c'è un bisogno di vedi, poi c'è bisogno di sostenere i servizi, ecc. Quindi molti ci sono spesso con noi, quindi magari alcuni imprenditori si scelgono sempre lo stesso progetto come la ricerziana, altri invece cambiano, perché magari nella rosa dei progetti che sottolineiamo c'è un progetto che è vista e cuore, quindi è più vicino. Tenete conto che se vedete nella rosa dei progetti, i nostri progetti ci interviene realizzati sotto caso. Ce ne sono pochissimi lontani, qui vedete c'è solo quello da posarci e non ce lo vuoi, però sono lontani relativamente, perché anche quando noi ci siamo occupati, c'è un paese che adesso è lontani da noi, la missione, l'associazione era, io so, Moab con 60 anni di scuola, Tamucia, Moab è a sedia Tamucia. Quindi molto vicini, anche se lontani, molto rinforzati, quindi rendi contato facilmente, cioè i nostri donatori sanno che le loro donazioni vanno all'unfine. E ci vanno tutte, e ci vanno in fretta, cioè i tempi di realizzazione del progetto sono velocissimi. Esempio, raccolta fondi della notizia prima, il co-fortuna, chiusa il 23 di 29 di torno, 3 settembre, il 15 settembre, i soldi sono stati consigliati in conferenza stampa. Cioè i tempi di fare i conti, di scorporare i costi velocissimamente, che non considerano mai il 25% del 25% tra i loro fondi, anzi, questi sono molti meno, e subito, a buon fine. Quindi il cittadino, il nostro donatore, ha finito scelto, non l'avete pronunciato, all'inizio sono molti meno, lo sapete bene? Cioè, ma è giusto, è giusto. Noi, quello che diciamo, anzi, prima lo sannuciamo perché lo dicevamo. Quindi loro sanno che se danno anche 5 euro, per 5 euro, vanno dove loro hanno scelto che vada. E ci vanno tutti. E magari, se sono 5 euro, ognuno non potrebbe farviare più 5 euro. Ma grazie alla Fondazione Notalisa, avvertano, ora che sempre più forte è stasicurato, 1.400.000 euro, dove vanno 5.000 finti di cittadini arendini. E allora, perché l'unico il vestito, il cittadino di Arezzo, ha dato 5 euro, ed è riuscito a fare stasicurato. Quindi, è riuscito a farlo in 3 mesi, perché è avanzato a stasicurato a post, al 18 giugno, all'inizio del lavoro, il 24 settembre è rinamorato. Con la polizia della costruzione, eccetera, 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 ok? Con la sua intelligenza, questo è il quadro con un certo punto che l'abbiamo iniziato, perché hanno fatto un dettaglio di mani d'anni, all'inizio della bandana coltrona. E' un fascino immenso, le picchezze, arqueologicamente. però, nonostante che risposta, questo vuol dire che è possibile fare queste cose, e quindi decidono, ovviamente loro decidono, fanno quello che vogliono, quello che possono, gli viene comunicato tutta la parte nostra, la prima volta, poi la seconda volta, la terza volta, la quinta volta, comunque informati sempre, anche per gli esseri, anche a persona. Cioè, al centro Fit4Life, Fit4Life dopo tre mesi era colto 7000 euro. Con questi 7000 euro, il, 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 la prima puliscina, la comunità di Arezzo, che il comune di Arezzo, non arriva a zero, non continuo, è stata affittata per 5 mesi. Cento ragazzi di salmi hanno frequentato il corso di muoto, grazie alle 2-10 maggior calze. Inoltre, gli vengono informati anche, ovviamente, sulla parte fiscale, anzi, vengono anche informati, quindi, non ve ne sto a dire per cosa sapete come me, ma, tutta la domatica vigente sulle dettagliità, delle vicinità, delle donazioni in penale, delle donazioni in vera, e su questo, spesso i commercialisti non c'è l'unità. E quindi, sono passato parecchio i loro commercialisti, che hanno rompere prima attimino lo Stato e i commercialisti a fare determinate cose, e soprattutto, viene comunicato a tutti, quello che ogni signore l'imprenditore sta facendo, per cui noi usiamo tantissimo la comunicazione locale, e, grazie al cielo, i mili locali ci supportano. Quindi, usiamo anche le pagine dei giornali, facciamo tantissimi comunicati Stato, facciamo continue conferenze Stato, facciamo anche una trattata iniziale, che stanno andando, abbiamo fatto, al scorso, abbiamo fatto 100 ore di diretta televisiva, a ritubificate, ritubificate, io ho dato le tiburie, le tiburie, le tiburie, le tiburie, a tutti insieme. Facebook, il portale, dove diciamo, e poi a persona, dove diciamo a tutti, e quindi, nei nostri punti di raccorda forma, di piazza, solitari, i pluriementi itineranti, dove noi siamo, 130 mercati, l'anno scorso. Cioè, quando c'è il mercato settoriale, c'è anche il Pantino, il Piazzale della Fondazione Mondiale di San, che raccoglie i fondi privati di quella comunità, che è 130. la diretta, la diretta, la mattina, il set, il cuore, monta il gaservo, il set, il caldo, il freddo, per i punti, fare i campesi, incontrare i cittadini, dire che quali sono le imprese dei direttori che hanno donato pepe, tutti i nostri livelli, anche da un euro, sono fatti di un'altra, che ha validato, e c'è scritto in ogni livello, qual è l'impresa che ha donato, per quale progetto ha donato, qual è il valore del mercato e qual è il valore delle donazioni. e c'è scritto. Allora, una notte che gli imprenditori hanno partecipato, sono interessi, sono interessi, sono interessi, sono interessi, questo è il nostro piccolissimo app, un esempio, quello che dicevano, erano entrati la mattina, perché erano entrati la mattina? Perchè tutta questa mattina? Perchè? 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 Perchè c'è una distancia, la mattina, tutti i giorni, e non solo nel centro della città, anche in paesi così lontani, come magari non ci sono, ma dobbiamo comunicare quello che stiamo facendo, ma non solo con un caro stampa, con la nostra presenza, facendo un esempio, facendo vedere. E magari, mentre noi siamo lì nella piazza del Paesino, se non è così lontano del Paesino, mi ricordo un po', con il suono pubblico dato da, rapidamente dal Comune, dal Sindaco di Milino, insieme al Comandante della PM, grazie alla lotta pubblica, all'elettricità, perché è un antiret tecnico della luce elettricista eventualmente, c'è una grande compagnia, se non è un X, l'elettricità è un favore, però facciamo un'uomo, però magari un'intervizzazione, magari non è un pizzerra, 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 se non è un pizzerra, i nostri 15 caseros sono tutti impendati in altre cose, magari ce l'hai fatto, perché questo è l'autentino, pericolino, 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 ma se vedete la seconda, la terza, dove vedete il slide, dove vedete, se vedete un po' e quando, per esempio, facciamo un pizzerra, socialmente responsabile, i caseros montati sono 51, ed è appuso tutto il centro storico in un pizzerra. Quindi, fra lì, ci siano 100 tavoli del comune, 200 parche della misericordia, 300 seggio della parrocchia, e dietro c'è tutto questo lavoro per le idee, che è bellissimo, infatti non sono mai bellissimo, con tutte queste realità, attorno al tavolo dove si creano queste comunità socialmente responsabili, ci sono 200 persone che poi si muovono con un obiettivo di basi associativi grandi e vedere, ne so, a molti grandi socialmente responsabili di 40.000 presenze, quando, al 2010, il progetto socialmente responsabile di 2010, quando, quando nel 2007, la prima menzione, non c'era un'unità, ma c'era un'unità, ma c'era un'unità, ma c'era un'unità, socialmente responsabile che si stringe e si fa carico e risponde ai bisogni che tutti insieme c'era un'unità. Cioè, c'era un'unità, c'era un'unità, c'era un'unità, c'era un'unità. cioè la comunità sociale è questa, in qualche modo di noi, quella comunità che ora adesso non ha da sola, anche se le organizzazioni organizzazioni fanno da soli tutto questo, tre universitari, tutti insieme, magari al senso più pensare per se c'è casa sua, non sui bisogni, ma tutti insieme, magari sto in un'altra, scusatemi, è una cosa bellissima, che non ha per dire insieme a me, insieme a me, da realizzare, ma soprattutto per quello di eterno, continuo del tempo, e quindi questi dati non ci sono, assolutamente, il tangente non c'è, che è la cosa più bella in assoluto, cioè, vi potrei fare 2500 racconti di quello che ad Arezzo, insieme a tutti quelli che hanno partecipato, abbiamo fatto, e quindi i numeri non c'è, perché qui sono numeri, diciamo così, vettaci di 9 e 9, che mettiamo. Ora, una volta che i comprenditori si sono scelti, con la loro scrittura da pensione, e noi tutti abbiamo fatto anche la città, per esempio questa, questa è quando ho fatto una nazionalità semplice, semplice, certo, tutti si mette sempre perché, ovviamente, dobbiamo parlare un linguaggio che tutti conoscono, tutti, quindi anche loro che si occupano di sociali, di pop, di appena spartecipata, di progettazione integrata, quindi tutti si fanno loro parole, bene, bene, però poi magari ti vedi, ma diceva, di che sei stata parlando? Quindi, strumenti semplici, ma si piensa per esempio la puntata, quando dà la ricetta di montanti, questa è, questa è, questa è quando dà il bene, quindi c'è il DT, diciamo così, come c'è scritto, quindi mi ha condannato, no? E noi gli facciamo la ricevuta, ovviamente, come vedete, dappertutto c'è il progetto che si sono scelti, va bene? E quindi, tutte queste ricevute degli imprenditori e degli hanno condannato, quando io mi porto da un progetto, quanti sei mila euro, di beni donati, nei miei lavori, ok? e anche qui, dappertutto, c'è meglio e piccolo, i 10 kg di mele, i 10 kg di calze, le 3 mesi di cucchiere, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sai che l'avate? Ah, ho capito molto tempo, tutti. Quindi abbiamo acquistato, vinte là, in cui la cassa è semplomita che abbiamo consegnato di 1.700, o almeno, nella cassa è semplomita. E a quel punto, anzi contemporaneamente, la divisione, nell'area francese della fondazione, c'è una divisione imprese, che si occupa di coinvolgere le imprese, le imprese, c'è una divisione outlet, itineranti, outlet solidari, itineranti intermanenti. Questa parte qua, è quella che si, praticamente, si occupa del coinvolgimento di cittadini. E quindi, spada l'organizzazione della nostra presenza al piccolo mercato, alle settimane intere, sempre dei nuovi più importanti delle città, dei paesi, dei paesi, dei paesi, dei paesi, della provincia di Arezzo, al periodo di diluvio, come quello che vi ho detto, a grandi eventi, come lontanato socialmente responsabile, che durano magari due giorni, e c'è tantissime attività a volte che la raccolta dei fondi, che è, dalle carri pesche, ai rossiabili, agli atti bambini, agli spettacoli delle società sportive, che convolgono comunque tutta la comunità. servizi e attività, con i programmi di carabobie, la vendenza, eccetera, che fanno qui un grande evento, però che tutte attività che fanno, praticamente che sono oggetto dell'attività dei nostri beneficiari, per cui la misericordia partecipa con i suoi programmi, la fattoria di ammorti con i suoi cavallodini che fanno fare, tra l'attività della selva, il Strasitura con i suoi incontri, le sue strutture di modi, quindi anche a livello di budget, queste enti costano, costano liquidità, poco, ma hanno un costo, hanno un valore, grandissimo, ed è anche qui la comunità che si mette in moto. E non solo, li riusciamo ad organizzare adesso, per cinque anni, velocissimamente, perché la rete, mi basta l'input, praticamente si auto, cioè con un po' di breve lo dici, che già subito il tavolo è andato grande, si attiva, e riusciamo quindi ad organizzare eventi di continuazione su sette, otto, dieci, location contemporanei, non è la situazione fatta da gente che così, eh? È la rete, da loro coordinata, la rete dei beneficiari, la rete degli enti pubblici, cioè che, diciamo così si muove, in questa cosa si può crescere, grandissima, e allora non solo risponde subito le nostre solicitazioni. Esempio. Ah, tra i rapporti fondi ovviamente c'è le sottoscrizioni interne a treme, c'è il rapporto con le uova, c'è di tutto, le percentualità per eventi su, da alcune, da alcuni posti, per cui, nelle scuole anche qui, l'inaugurazione dello scuole normalista dell'8 di dicembre, che è 15.15, la scuola con l'alto. Beh, ci sono anche, tra l'altro, i panidati, eh? Qui avete, che mi sono invece, per il tenessere della comunità, sono del Castillo Fiorentino, delle scuole Castillo Fiorentino, diciassette, diciottosio e dicembre 2011, in quel giorno eravamo due serenze. Siamo noi, eh? Ci siamo tutti, siamo tutti i migliori, siamo tutti i suoi sottoscrivani posti, siamo tutti i colori che romandiamo e, oltre le stanno di farlo, poi lavorniamo e promuoviamo, cioè, veramente, un ordinario delle suoi sedia di comunità. Questo evento è stato realizzato in sette giorni, cioè sette giorni da quando è stato deciso. Il volantino era pronto dopo un gioco, perché anche la fotografia, il puntatino è stato realizzato in maniera velocissima. L'obiettivo era i 8 mila euro che servono a ricordi, che sono delle scuole con distraviamento, non hanno soldi nemmeno per pagare la potenza dell'elettricità delle scuole. Sono 1.700 ragazzi che hanno un indietro e un indietro. Messo in piedi su distanza del commissario di governo, c'è una mano per comprare la cartogenica, diciamo così, pagare la benzina dei fulgocini che portano a scuola, pagare il gasolio del riscaldamento. Messo in piedi in, e questa è una situazione di tante realtà che mi ha messo in piedi in altri sette giorni. Lunedì andiamo, lunedì, per quanto ho fatto un'altra serie di iniziatiche, sempre sotto nei passaggi, lunedì andiamo in conferenza stampa a erogare le risorse raccolte. Grande partecipazione nella comunità. Gli imprenditori che hanno partecipato al gasolio, che ne vanno pochi, sono stati 85, e i cittadini che hanno partecipato della scuola nostra, due altre sono stati invece con i 350. Quindi mi fate anche un po' il caldo di quanto loro, l'apporto di intervista scenderebbe un'erogia, non sono tanti, gli 8000 però, dove abbiamo già ritalizzato già spesi di cose, avevo inventato le due scelte. Anche perché, quindi non abbiamo finito di dare una A, ognuno degli A, questa è un'altra caratteristica della portazione, analizza qualche modo strutturare queste risorse, ci siamo anche in gestire. E andiamo a arrivare anche questi primi aiutti. Quindi, quando c'è il vetro, poi devo mettere una cosa che non era più vicissima, lo chiamo, per esempio questo è l'esempio del divietto della sottostruzione interna a che facciamo soltamente alla A. Allora, questa è una delle due sottostruzioni interna a breve che facciamo soltamente alla A. domanda. Ci sono 10 premi, sono stati stati 6 gennaio, c'è l'articolo che è uscito nel giornale con i numeri dei vincitori, tutti i premi sono stati donati da un po' di imprese dei nostri sostenitori, tutti i nostri sostenitori. Anche questa è un mese, un mese di raccolta che è stampato, un mese di cinque per mille, gli anni che lo racconto che vanno conoscere bene. E abbiamo portato anche questa presca di stampa, questa è la nostra fattata di cappola a un'ora nella mia città di gioce da spogli. La rete X coattuale c'è abbia gestione nell'interno dei 4 dicembre nei piccoli e eropatoni si alle città di quanti famigli, hanno luogo terzo luce, quindi hanno un mercato di gara accesso della ragazza la regione di Fadri, il 15 ottobre. Esercitando il fracofia sono presso 40 all'ergo, mi entreranno in casa a marzo, noi il 24 di dicembre gli abbiamo portato il dono, il costapagno, le ferme da stiro, così minimi, i forniti, cose piccole e ci siamo preso l'impegno di fare raccorda fonti. Il prossimo obiettivo è di mancare la lavatrice, perché non mi fermo qualcosa altro, mi manca anche le elettrici, quello che ci hanno chiesto loro sono le lavatrici, 51 lavatrici, ma qui a fine del idraulico, quindi iniziamo oggi fino a sabato all'inizio, dal 5 al 12 di febbraio siamo a Carbara, dal 20 al 27 febbraio siamo a Firenze, il tentivo felicità l'ergo, e per raccordi i 10, 51 lavatrici, vogliamo raccogliare di più così, con il velare, diciamo, sono una classe dei tempi, vediamo un po' se riusciamo a farlo, entro da consegnare il posto di marzo. Anche qui la LightingX è comune di Castiglio Fibocchi, pubblica assistenza di Castiglio Fibocchi, comitato del Carnivale Bocco, è un carnivale famoso a direzzi, infatti non c'è, 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 non c'è. Con un grande entusiasmo e ci ha presso a disposizione 28 store, che è la nostra attività di produzione, da quanto fu? 10 anni in Italia. Questa è una cosa, allora, è arrivata su fatti, diciamo, così, dove ho scelto in anni di lavoro. Allora, quando arriva il centro di mezzo da voi, ai nostri app, al nostro paraclutico, che trova gruppi? Noi, siamo andati a partire, però non pensiamo realizzare, tu per i cresciti. Ora, il primo di centraio è assomigliare 5 persone, perché in un momento di questo tipo, siamo già a posto, più 5, più 13, più tutta l'equilibrio di strassitura, dove sono 15 persone. Tra professionisti, istruttori primoti, esperti psicologi, in mezzo di atto, hanno un'altra nuova interna, con le prova sulla guida, dottori del 118 del CERT, che fanno tutto il modulo 118 del Consul Force, quindi del suo esterno, quindi, comandato dall'ASL, a cui l'ASL, noi, le fattano a noi, in un bagnole. Non è vero l'ASL ci sostiene, eh? Tutta, eh? Allora, quindi, e qui, qui, qui. Però siamo, se ne diamo tanti, perché oltre a noi ci sono, come esempio, queste, le lele, i 18, i 12, a, quindi, c'è il giorno, e non ci sono solo a faccio la ragazza di uno, eh? Per esempio, domani, attraverso una nuova parcellini, a montare il casello, insieme a uno street, agli amici, ragazzi, c'è quindi il tuo mondo. Domani, attraverso un'altra smontano, cioè, il Fit4Life. Stamattina, anzi, non c'era la montata, come se guarda l'Arezzo, a montare il... E magari un altro giorno, certo, questo spinto di solidarietà, non so se lavora così in un movimento, tra le organizzazioni molto... C'è anche un gruppo di volontari nostro, che sono tutti i nostri anziani, in cui, insomma, mamma, 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 e tutti gli altri, cioè, non può, ma solo tutti essi. Sì, sì, sì. Anche perché il volontariato, una cosa così, non lo so. Cioè, noi la vogliamo montare, e non c'è sabattino lì, ok? E non c'è orario. E questa cosa qui, intanto, cioè, il volontario, non so se ci sarebbe un volontario, ma su una risorsa e lì si trovano, cioè, sono un dato, e poi, in realtà, una cosa così, passando su un volontario. Perché quando vanno le altre linee, e spero, ovviamente quando siamo all'estate, esprime più la leggera di letto, non so, non so, non so, non so, non so, non so. E poi perché il coinvolgimento di questo tipo, una comunità così, qual è grata da un professionista. Quindi c'è bisogno di una bella formazione. E non c'è tanti, diciamo. Quindi anche i colori, ed ecco, le conseguenze dell'informazione vandalizza, vanno formati nella formazione più lunga e dura. E come dicevo, si vanno tutti dall'area della vita. notte che non è che la scena al pianeta che non è di morale, non so che è mai stanza. E si rimane. Per cui? Sassato mattina, siamo a dire in casa, l'avversi salvatore di questa stanza la fondazione del journalism, e poi a far parte, il potenza di mattina c'erano i terrenici, sono chi è che sia la situazione. E così, anche il da nous ha. Anzi, sì non ciò che, ok. Spero 100 giorni o 100 giorni di terra e il formato, per fare una cosa. Anche perché con il genitore di questo genere è molto utile per ricostruzione, implementazione, mantenimento di reti di acquisto di questo tipo e aggiungere ragazzi. Non lasciamo, forse scusate, decidiamo insieme al consiglio di assicurare. Allora, e questa è la nostra, diciamo, arriva il cittadino, arriva Angela. Arriva Angela, al nostro audit, vera, piccolino, grande, suite, monetario, con tutte le modalità possibili e immaginabili che ci metteremo in seguito, perché la reattività, anzi, anche perché la reattività fanno fronte a tutti quelli che hanno avvistato, che aumentassero, di tutte, di tutte, di tutte, di tutti, eccetera. Allora, il nostro progetto è questa qua, perché, se no, non stavamo a casa. Quindi arriva a cercare e dice, ma che è questa cosa? Allora, quello che lì ti spiega, fa la destra così, oppure ci conosce, fa i suoi progetti. Ma, come succede? Io ho detto prima che gli imprenditori scelgono. Quindi lì nel nostro audit solidale e sostenibile ci sono già alcuni catalogati. Avvocati è scelto, per esempio, in tutta la epoca, il pulmino della cooperativa salutenza per il trasporto di santo sansepolcro. Quindi arrivino lì, prendendo, arriva, o mattina che sale gente, le ande le fanno male, perché le state si moffiano, e c'è scritto che ha un esercito, un petto genico, e che il suo materno di intrasse è 4 euro. Quindi Angela lì ci chiede, perché è il prenditore che è se l'esercito. Quindi, ah, ce l'ha di vedere, fatta compilare, cioè, non voglio definire la nostra città, anche per me, guarda, questa prima nostra città viene educata, diciamoci, certi, insomma, che molti sapranno, perché vi dicono, ma come? Io non la voglio mica la città, a me non mi interessa. E poi devo anche esprimere la scelta di moda il mio negozio, cioè, tocca farmi anche una bella consulenza, antivasione fiscale, e combattereci, però anche questa è un'ultima cosa, perché questa è un'ultima cosa. Allora, questo è un esempio, dice, scritto, come fare, non è che perché noi abbiamo anche il post virtuale, insomma, quello, il tempo, e così si dice che si pagano un banco, una nazione, sono dei fraimi, allora spiegare anche di qual è la differenza, 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 però, ma domanda più troppo. Si, cioè, lo raccontano anche altri. Allora, quindi Angela ha preso l'altra. Qui, che cosa ci spieghiamo? Il cuore c'è, alfa un euro è il valore della nominazione. Angela Ricicchini è il tuo quarto vero del valore dell'individuazione, che è quello prezzo, diciamo, che l'imprenditore ti dice che meno di quello lo propone, anche se sei un atto, e Angela dice che no, io al cui mio salvezzo metto 50 euro, non succede mai, 5 euro, questo è più, mi piace che 4 scende. Allora, nella prima rega ci sarà scritto il codice dell'articolo per la seconda donazione del lavoro di numero 2, pari 5, barbato 2, per la parte codificata, pari per barbato, per la parte un euro più barbato, ah già potrebbe dire, io do 4 euro per il primo vino, ma do 2 euro per questo concetto, e lo barbato 1. Ma spesso l'imprenditore non sceglie di un progetto, perché sceglie la fondazione, e dice, e dice, scegliete non voi, pari poi ci dice anche, sostegnate un modello di perfezione di comunità, CSR, comunità socializzata, quindi sosteniamo la fondazione di un paese per quello che fa, e la fondazione di un paese per quello che fa, e la fondazione di un paese per poi riuscire a cosa faccia con questi temi. Ma spesso dice, decide, e quindi, tanti vedi c'è scritto un progetto che vuoi, e allora c'è il progetto che vuoi tu, avuta, dice, che per un anno, uffatare l'impasta, tutta la pasta che dà, poi è accettativo, che decide, e quindi c'è scritto un progetto che vuoi, il progetto che vuoi, e allora qui è Angela, c'è il codice, però è Angela che sceglie il progetto di impiace. Finito questo, per esempio, oggi pomeriggio, stasera alle 20, ci sono tutte le ricevute, gestione all'inno, fuoco-gassa, divisione per pagamento in denaro, contatti, assedio, paywall, tutto, ma divisione soprattutto per c'è, cioè, totale, quanto è il totale assolutamente, ne so, all'astretto di Arezzo, che lo facciamo ormai, oppure piazza dell'era pubblica, del problema, per il mio avventura, non si può trovare la piazza di Arezzo. Un nostro outfit, una zona buona, può arrivare a medida che vanno a giorno, e invece, che vanci e perché la colla, ma come mai la scelta, i nostri esistori? Due, due. Non un biglio, a meno che ci siano purontati. Ovviamente non è solamente minimi, e sbontaggio più, però, dietro quelli di lì, c'è chi ha preparato il fruttore, chi ha fatto adottare i merci, chi smurta il frugone, chi riassorgesce il frugone sulla base delle istanze di chi sta facendo un front office, chi ha incontrato l'impresa, chi ha fatto le ricevute per gli impianti, chi poi fa il gestionario amministrativo, chi fa la rendicontazione, chi è un contributo diretto organizzando tutta la parte comunicativa perché facciamo un'offrenza stampa per consegnare i 5.500 euro alle scuole di Castiglione Torentino con il commissario presso che fa i lati sotto i suoi figli comuni. Perché? Perché tutti i colori hanno partecipato, così lo sanno. Perché andiamo dai 5.800-5.000 euro alle scuole di Castiglione Fiorentino, non ci ha fatto questo, comprato un guittale di Cartiglione, ha pagato 3.500 euro alle scuole di questo. Perché? Perché una volta dopo, quando ora a marzo andremo a fare il carnevale a Castiglione Fiorentino, un'altra operazione raccolta-fondo, magari invece con 85 negozianti parteciano 150 e invece con 250 Castiglione si ne anticipa 1.000. e magari invece per i 5.500-6.000, raccomandiamo quei altri 5.500-6.000 che stai a 1 per finire di poterti consentire di fare le attività, di fare le attività, di fare le attività, di fare le attività, di fare le attività e così via. Ma non per poter rispondere a capire, nemmeno comunque è un prodotto dell'azione che viene maggiorata. Cioè, i Veneto, allora, nella 18 fonti, allora, noi riusciamo a raccogliere a 16.000 euro, soprattutto perché ci sono i Veneto di Aureo Resto, che vengono convertiti in quel valore al cittadino che viene a costruire. Ah, su di voi il valore, il fatto del materiale, con l'area, 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 con l'area. Cioè, la nostra raccolta fondi al 90% non è donazioni in denaro, ma sono donazioni in denaro dietro donazioni di beneditori. Cioè, donazioni in denaro dei cittadini dietro donazioni di beneditori. Questo è il nostro problema. Ed è fortissimo. Perché in un momento come questo le imprese fanno fatica tantissimo a donazioni in denaro. Una volta che hanno fiducia, non hanno problemi a farti donazioni in denaro. Il cittadino sta fatica a darti una donazione in denaro. Se però, ah, non sono costata, e sono renti, molti. Per cui, il vestitivo Montalisa, che è in negozio, parli 200 euro con parli pantaloni, vieni alla Fondazione Montalisa, da 30 euro con parli pantaloni, lo stesso fattore. Fai una parli pantaloni, ma per te famiglia. Fondazione Montalisa, che è un cerco di rilettro che funziona bene. E noi abbiamo un ormai soccorso centri anni. Però la chiave, diciamo così, del successo, del successo, della crescita esponenziale, della comunità monalisa nonostante il contesto di crisi, è la trasparenza assoluta, per cui non entra un euro e non esce un euro, va bene, e il fatto che tutto quello che esce è finalizzato, è finalizzato, e questo è, e lo so, è anche la velocità con cui la facciamo un'analista, dice qualcosa che poi fa, e la gente neanche la rinvide, che se la rinvide sotto base, ma quello che scusate, io non la fate anche, cioè, non è come facciamo, cioè, non è come gestire, di sposo, per favore, di investire, di sposo, perché sono, benvenuti, benvenuti a tutti fai la ricevuta, perché hanno un anno di tempo, anche come tu ci vedete, io vi faccio vedere, quelli che sono buonazioni interni e sono, secondo la legge dell'interno dei prezzi, dei prezzi di comune donazioni comunali, secondo la finanziaria del 2008, se sono, diciamo così, difettati, vecchi, quindi possono essere assimilabili a andare fuori dal mercato, e i magazzini delle imprese che sono pieni, non vanno al carro e risultano distrutti a finire. Ma questo sistema di imprese, quando lo vede in Italia, come dà il vostro valore? No, è l'impresa che dà il valore, lui ci fa il PDT, lui si scarica nel magazzino, quindi lui ci dà il valore. Ma poi, quindi, per i valori che dà il loro valore? Allora, solitamente l'impresa dà un valore che è quello che hai scritto a magazzino, va bene? Poi a noi ci dice, a noi ci dice, il valore minimo di donazione che dovete chiedere, come so, è 10 euro. Poi, il prezzo di mercato di questa cosa, anche se, diciamo, è 30, e noi mettiamo un valore minimo di donazione che ci ha detto di fare di l'impresa, va bene? Però il donatore finale può dare anche di più, è un valore minimo di donazione. Sì, 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 certo, certo. Infatti, anche tutta la parte amministrativa, anche la catalogazione dei singoli verni, è perché il nostro magazzino è gestito in maniera da maldolio, e abbiamo tantissimi verni, tra arte piccoli, cose piccolie, perché magari ci danno, non ne so, il lapis, il capo di là, non ne so, piace bene. E noi, in realtà, dobbiamo inserire. Quindi, quals'è il valore? Quattro euro? Un euro, 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 un euro. Prometto, quando, quando ci continuano, non sono i mezzi in un anno, come quantificare le ragazze alla fine quando lo farei il bilancio in un anno, ci siamo stati di un punto di vista, ne ho capo di queste cose dal 95 che sono lavorato in un'altra manca. E la gestione della Fondazione Monaliseva, una gestione peggio di un andese bilancio. In più sono una persona che dal 95 si occupa di altro riciclaggio, antiusura e effetti per le distorsive d'economia criminale sulle coloniali c'è la prima che non parlano di welfare, quindi sono una ascella, mi dicono l'ultimo l'orto allevata, sulle gestioni, cioè la proprio l'orto allevazione come dicevo prima, molto meglio. E quindi ho dovuto discutere con i miei amici, esperti di settore, su un valore da dare a queste permanenze, perché ovviamente c'era il commercialista che vedeva un altro profit e diceva cappero, ma sono donate quanto zero. E io gli dicevo sì, ma con quello zero noi raccogliamo 600.000 euro. Quindi questo è un Bernardino con Zavani, eccetera, eccetera, per cui ti conosco io. Zavani è stato un relattore artisti master quando ho scritto i più modelli di questione di sicurità, poi ci sono riuscite, ma è una fattoria. E quindi noi gli diamo un valore molto basso, che è molto più basso rispetto a quello che è un attore in quella età. ed è più alto, solitamente, che il valore che mette l'impresa. Perché l'impresa solitamente da un valore più alto. è un valore molto basso, però diciamo che se il valore per l'impresa è 1, il valore per l'impresa è 2, per esempio. Qui stiamo a un valore molto basso, ma il tonatore poi meno di 5 che c'euro con l'età. è un valore molto basso, ma il valore è un valore molto basso, ma il valore è un valore molto basso.